C'era un'idea, Stark l'ha informato. Si chiamava Progetto Avengers. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno. La sua vita è scoperto, e la sua vita è scoperto. E la violenza causata la scoperta, chi ci siamo? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. In your head, in your head, They are fighting With their tanks And their bombs And their bombs And their drones In your head, in your head They are crying What's in your head, in your head? Stop it, stop it, stop it What's in your head? In your head Stop it, stop it Stop it, stop it I'm sorry, ma'am! No problem When the violence causes silence We must be mistaken It's the scent of people In 2018 In your head, in your head They're still fighting With their tanks And their bombs And their guns And their trolls In your head In your head They are dying What's in your head? In your head Stop it Stop it Stop it What's in your head? In your head Stop it Stop it Stop it Oh 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 No, no, no. No, no, no. Signor Stark. Abbiamo vinto, signor Stark. Abbiamo vinto, ce l'ha fatta, signore.